e ma ho iniziato no no bevi 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 il dopo che abbiamo già iniziato il caffè polacco no che mi uccide vita e quindi seri oggi iniziamo seri senza più ridere perché in ogni caso è colpa di edita certo è colpa mia se viviamo non so se l'ha tradotto così non ho la verifica della traduzione dopo come faccio ah sì è vero è vero vado a vedere google si è detto quella qualcosa come dire il l'ipnologo e pazzo bene abbiamo qui la nostra amica dana dice che capisce anche bene l'italiano abbastanza e che sarà sconvolta da quello che stiamo dicendo va bene elena conto da 5 a 1 5 4 3 2 dimmi se la vedi poi c'è un figlio si è lei è per terra tutta rannicchiata così tag vizzata o noi ea tutto un gruppo di uomini intorno sei uomini intorno che la tengono lì così ogni tampa con il sesto merce spavano già mai sta cascola noto e mi fa vedere che se lei si alza e li manda via loro vanno via però poca ipoca sui miei miei soli esercizi si riesce a connescerita che grazie rovetta da ogni soltanto c'è però e poi come se a lei mancasse un pezzo come se il contatto di loro che la tengono giù per lei è fondamentale se non ci sono manca quel pezzo dove loro hanno il contatto alta che mi preoccupava che così chi è che c'è istituta e i popsof sta cascando nesta nico taris questi uomini citalo dimmi rappresentano diciamo le sue paure sui blocchi la sua repressione e ci mostri rappresentano che non c'è schiette i rinchi saltavate l'instra ma come sono fatti questi uomini sono uomini del tempo uguali sono dei molto lunghi molto snelli e alti sono versate scopri capelli neri fino a quali c'è mai volta che torna prosta fosse da ramion si sono vestiti eleganti come potrebbe essere la gente smith ecco questa un brani che può tornare a cantare sanzco e sono tutti uomini tutti uguali sasterna cosa dovrebbe essere uomini del tempo se potrebbero sì sì ma contabets luce tasso quanti sono 6 gli asti costa ok abbiamo l'autorizzazione di dana cittadana davano posto all'anima tutta in ossia se anzi dice magari voi mi sapete dire come fare perché io non lo so ok chiamiamoli e facciamoci dire il nome del capo che c'è un po che gioia che sti mi lascia fate il gruppo si nome del capo è il primo alto uguale ma viene in avanti si mette in avanti sa famiglia sta piaccia tanta cosa mi dice banalmente kronos e muove la mano e mi crono e adesso lui è davvero kronos se ditta una parte sconos e che è conosco che mi ha sconos e dice che è il capo di loro ma vi ho lasciato anche il gruppo è quello che è alla pari mi dice beh io lo vedo poi me lo dice lui ma lo vedo anche no quando mentre parla vedo come se mentre parlasse in questo momento io vedessi anche la scena no di quello che dice dice sono crono se sono alla pari di odino e zeus e si mette dice anche odino che temo vi fatto c'era la navi cestana poi aveva cestana usa mi ottene una cosa i fatti c'è una roma in stimi bocani sono state storie quindi non è un uomo del tempo c'è mi accontro che trova questi gli altri 5 a cosa stava pianca ok vediamolo quando ce l'eco c'è un controllo militare e non riusciamo nel portale dell'oblio da cozzani e buona l'inizio c'è oggi tutta io poi scoperto che proprio questo maestro vatico e poi faccio quando ci sono questi faccio anche un toroide di ad eterno tutto intorno a noi a questo momento alla sessione ma c'è stamattina chiamata materno ma non è stato momento ok già che ci siamo ti do tutti i minuti che ti servono controlla mi quella cosa solo un secondo no ok ok iniziamo da una vibrazione cosa c'è una madre i brazi e comata ma 720 milioni si è danzata fagista miliano percentuale di consapevolezza poi c'è da mostri 153 stop in 108 prota psp e do qui indossare una vaca oscilla molto velocemente tipo quasi da un minuto all'altro questo momento molto ps ed è 58 e 42 parte a tattatoate a se lui è parte a scioccato tre temo man c'è gli spingessi andò sempre o santa nasa cittura vite precedenti 1825 tecnici a scienza da fagista pieni cervello usavano scimo sco 9,2 g20 cina anche la crocante ok generalmente dei buoni valori una bassissima frequenza perché trovate volta ci sono fermiare so che dopo rena come astri grazie che scatla poco alcol e tabacco insieme alcohol nicotenna rosa un centro ok ma nel suo caso queste due cose proprio la tengono praticamente sempre con le vibrazioni bassissime e fanno sì che lei allora e lo vedevo anche prima scusa di dita vai da 3 a giocatori nicotenna pratica cinesa maia volta che i partiti fibrati a la vedevo subito anche all'inizio quando lei è in grado di mandare via questi uomini ok c'è io maestro stagni e godi tali c'è un cast in ecco casa vanno piaccia un cotto scatto e postati in stato e quando le manda via le interferenze le due le entità mentali del tabacco e dell'alcol intervengono per far sì che lei beva e fuma che fermi alla regione auto dalla te posta cita testa mentali a cofola minico che non spavano zona nata al piano pari così sente la la mancanza di quel contatto e tagliata gotto e pratica contatto tete cci e cremo e si richiude così e loro arrivano di nuovo quindi a me che ci sono scelta caro abita vasculona vent'anni panorini fra tra io ok invitiamo dana a non fumare in questa sessione se deve venire voglia tutta la sua prossima dana ma andiamo alla sua ultima sigaretta prima della sessione allo time c'è da un momento che pari volta in coppia rosa a metà sigaretta quant'è la sua vibrazione pochiere pallone coppia rosa io la fannoci vibrazia 500 milioni pinzer milioni ok se non fumasse tutto il giorno prima di andare a letto oggi quanto sarebbe e non facesse la sessione ovviamente quanto sarebbe la sua se non fumasse per otto ore quanto salirebbe la sua frequenza da 700 milioni che adesso anche pensava geni e pari 4 che viene parlato un processo c'è un coaching che si apposta che stanno da usca il abbasso non conoscevo appena mi riprazia 15 miliardi che nasce miliardo 24 ore anche per mare anche bene pari guarda di stati terre cucina 25 miliardi non dava gesta pieni miliardo fuori grazie quindi la sua frequenza sarebbe 25 624 si torna 20 25 la corva di stato di sapere ok quanto incide invece l'alcol è nata ma sta al collo ea corso ho fatto poi nato stato a 6 l'alcol è più proprio in maniera repentina cioè in quel momento la bassa se lei bevesse senza fumare allora da 25 miliardi andrebbe tipo a anche a 300 milioni triacol java bar jake autorni e totale che beona nepali guarde per terco più atto quanto mi ripeti 300 milioni totale questo piantino che si eserò più umilardo che si trova più 60 milioni e poi tornerebbe alla fine dell'effetto dell'alcol tornerebbe a 25 miliardi in a connes che rispetta un effetto con lo sneak now c'è la tratta dove fruttiva ripratiato di sto pieno miliardo che c'è sigarette che ne so se lei ne fumasse quattro giornata sarebbero che ne so 10 miliardi miliardo 950 milioni non c'è più o ma un po me c'è arriverebbe comunque c'è più sigarette fuma più si abbassano imbarge e una pari infianze i pali tec paper o soft trafibrazia rischia quindi fumando nei venti tutte le volte che fuma una sigaretta è come se c'è la sigaretta mantiene quella vibrazione per più tempo quindi tutte le volte che lei poi ne fuma un'altra si abbassa ancora di più rischia stampa che rossa anche la palata tagli fibrazia spazza la signora signora ok qual è la causa esoterica dell'alcol c'è una stata la cina a piccia allora nel suo caso c'è l'entità mentale di livello 7 ripso patco è stata è stata metà non spacciamo sosta che vediamo le tutte il massimo per l'alcol di solito vedo otto io ne faccio partassimo studio alcol ok 7 e poi poi c'è 6 dire sigarette rovnia spaziamo sosta papi rossa poi c'è una di livello 4 e una di livello 3 io stesso spazio molto parte con gli stai stata aumenta una spazia molto cieco un casino 4 l'entità mentali tutti gravi perché anche quattro non è che voglio stare è stata menta una città mi arriva sa che posiamo la tizia che ha fatto una sessione in polacco adana è interferito da entità mentali a ciascosa paul casco ma interferenze di start mancano allora sarebbe io la vedo molto genuina è come se prima che lei iniziasse a fare le sessioni agissero su di lei dall'esterno ma nella matrix ea vita zona 80 c'è una progettiva all'esanima fatta va proprio provato ai stessi e vita in animo da ueva matrix matrix e come se quando ha iniziato a fare queste sessioni con quelle persone abbia firmato un patto con dell'entità che si attivano tutte le volte che fa una sessione evo in certo posto non arriva robic sessi è stato un gruppo antosa casa sembra sempre provata se si è toccato ai stati che c'è act e voi a un bobb sta deve sapare bag pact animi cosa c'è la propria fatanea tessi e mi è arrivata un'altra cosa mi sa che lo stesso meccanismo con cui è stata interferita un'altra telepata che adesso non fa più nulla e il testa meccanismo poi aveva unisce sapato in una telepatica trafte moment per segno sai muoio ma che conosciamo sì alla me lo dirai poi dopo ma conosciamo bene poi sposte mi paga sacco oggi no tu come si viene ok ok bene è servita qualcosa quella sessione che ha fatto c'è tanta stessi a danes tanto un pane a una tasche posso sova danni allora lei ha detto le interferenze chiavi che ha nominato c'erano veramente certe interferenze e tratta un po semigna una straccia stessi fa che c'è sempre vuole danno però invece che come se lei quando fa le pulizie non riesce a farla completamente come se le spostasse un po in là all'arte di tanta paniere robito 88 strani la sensità e quindi ad con il sapato trafio a tante state us sono tra quattro scuola sovanna bocchia e quindi poi dopo poco tornano è come se poi a che mi stascia una porta un frattempo in tutta la farenza come se le venisse impedito da che proprio fanno tante i panni scottic e a volte crea dei canali per altre interferenze per obiettivi già predeterminati in a casa mi trasferà canale da interferenze stico oggi o che stiamo stasino stalo ma motore facciata la entità e teori che c'è danno ma che c'è stato a terra c'è una mantide gli smogli esca leoni del filinoidi farina rigida che ce l'ha fatto poi è un falconiforme il falconi e poi ci sono quei cinque uomini la con kronos che da piante cateco marcia spot on the coast system crano san natale quindi cinque uomini del tempo campianti come già senta sono io non ho capito cosa fanno questi uomini del tempo nel caso di dana mi è stato mi avanza ci ma le taci logica sora abbiamo trovato codana la tengo nel mobile e isolata da tutto e tutti c'è mai un ero comico nero con mia e come se come se lei facesse un guscio di se stessa e loro la tengo nel guscio da capete un gas tanta che cosco la niente facciava cusciata che pancia rione c'è mai con fernand sconate con pancia bassa autostima sempre loro c'è un anni che ho fatto ci ha fatto i partori città tassoni loro in collaborazione con l'entità di livello 3 ogni alla rovnia scoprata segni stato mancano spazio motos a cieco sottomissione o la cost in città di livello 3 con il ferinoide è stata spazio motos a corofnia sovras farino itam mettersi sempre a disposizione delle persone senza un limite fa che bisogna ne potrà fermo vicini a questa raccoglie i concerti nostri servilismo in città livello 3 poi un po la quattro anche è stata spazio motos a cieco alla rovnia stroccata facciamo tristezza smutac a quattro facciamo parte ecco a comunitari 5 verticale ma ci sono perché sentivo la mia voce come se fosse una radio che ripete la mia voce no ma traducito oggi no stavamo fai scopri maestro è un po un giorno che c'è 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 mi sa che greco quello oggi imparato casa domus johns domus alla domus è raccordatore anche un'altra parola ma l'ho già dimenticata qual è lato solo che dimentichi ricordo che ho imparato ciasi contro no quella dopo non è che sapere come scritto terzo punto non c'è c'è c.c.c. blocchi all'azione bloccata gli sti facciamo giovani nemoti giovani a 4 6 7 è stata sposiamo il fatto a costa con i cermano insieme al felino idea falconiforme i rasano farino ora stan falconi da ansi e lenchi rosman carazzaio a 4 è stata mentre una spaccia molto forte co capitolo economico problemi finanza fa a tende a fare i regali e poi resta senza soldi 9 di stima pieno da togliero stare a fuoco allora questa è la mantide totale presa modifica l'amantide a maglia quindi cosa le fa fare fa i regali che così almeno ti fai degli amici di te c'è inconsciamente se tu fai i regali le persone ti stanno vicine perché c'è stata aiutano di riscata che secondo anno sarà rosa vai piena un zero presente in usa scasciate ostata quindi la convince quasi a farle dimenticare che poi dopo non ha più soldi e spraviata modifiche potenziano sapo minava giocatori ero cosa che però stata appena non stata potenza spagnia un po spagnia niente e poi dopo quando si accorge che non ha più soldi l'entità di livello 3 dice vedi non sei in grado di gestire a potenza che rosca e rosa stai per spagnia e poi stata spaccia moto c'è come verifici nuovo esperienza l'entità di livello 4 aumenta la tristezza e l'ansia perché ha paura per il futuro è stata facciamoci parte con la sveng sarni potuti elenco i test che tenta manata risposta l'entità di livello 6 e 7 fanno sì che lei fumi e beva così le vibrazioni rimangono basse e potremmo in stato facciamo sostegno marco spraffiare un giorno pari i piedi tra i brazi e cosa stai un ischia quattro scippi ci porta potere la seta nasa stava no con la gianna naulica cosa è stata scippata 4 scippi ho capito cp no cp proprio la borsa la borsa tolta non portafogli con mano l'esta si chiama dice mano l'esta mi sembra cioè mettono la mano prendono non proprio li han preso la borsa e l'hanno evidentemente strappata con il rischio di caduta ovviamente trauma e poi un rischio cazionale mentre di mezzano tre canate e pulizia e troppo la niente che mi parte tromata c'è nella mia stagione allora ho visto una cosa particolare che subito non capivo cos'era com'era il meccanismo che già andato a tasse girnegan a pacchetto con il buon trasformi ci ha dato che oggi è stata ma è una cosa stranissima allora la prima volta che hanno fatto lo scippo le hanno fatto un abduction pierce parla che dobbiamo croce o no to tak naprawdę wtedy doscia do provadzenia però poi lei come se la piazza si fosse accorta di questa abduction alle potenzi tu sa usviatomi la sobria da vostra posta cosa sta con provadzenia e quindi è come se gli uomini del tempo avessero fatto torna indietro il nastro e rifatto l'abbè rifatto lo scippo per rifare l'abduction portate scrociare il luce tasso e tra finalità si è per il nuovo documento con la nostra stava con ovni è trattato o cragiani o cragiani come se si l'entità si fossero fissate che dovevano quel tipo di evento con l'abduction doveva riuscire per forza fino in fondo cerita provadzenia muscia voto e si usa per doterlo ma è stata posta una pioggia come si sa con i cni è vedato a difesa barnelli stata quanto quindi la prima una dacson le altre tre sono così se cerita un pierce sapate capo prova genia cosa stava accettato nell'emozionale di dana questi quattro scippi hanno lasciato un residuo cercare emozionale non da netta sani a traccia 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 da sta vivere che scelta allora ci sono tre emozioni due mi sono molto chiare adesso poi la terza cerco di vedere il meccanismo allora c'è vabbè lo show la paura per lo shock c'eri poi aveva un paio di città che emozia totale straccia donna strana so che stiamo scostando la sua quindi tutte le reazioni fisiche un po no del momento c'è rischio scherazio c'era che stiamo mangiata così poi c'è questa sensazione di vuoto perché durante l'add action la prima d'action è come se le avessero tolto un pezzo di qualcosa droga certo c'è post che poi a posta copro faccia niente che questo c'è ieri e poi c'è la terza emozione che come confusione come se le avessero dato una botta in testa è confusa e traccia amozziata che pompa mia sani menta mentale stava uova che ci sono le hanno lasciato una confusione permanente quasi che a volte non si ricorda delle cose e dopo a mia sana che stavano stavano mi pamentava a netto regalciano quante volte questo succede e la rasa del tommiamo mista che non si ricorda le cose da sotto torsani e pamentata ne soppi non sappia che lo sa qua a una media di due volte al giorno sarebbe nato farà sale genna ok causa esoterica delle problemi con le persone soprattutto iniziamo dai compagni i colline pont probleme fra l'azia che il fatto è una cosa vecchia è stata scosti è un contratto che ha firmato un po di vite fa il contratto che fa fa roba che il caso c'è stato dove come se avesse fatto un patto per liberare allora in quella vita dove ha fatto questo contratto c'era la sorella tanto non so c'è cosa farva tanto in park dovata mi sostra c'era la sorella che non voleva sposare un uomo e tasso strani che c'è la mostra ma per far sì che lei potesse essere libera già attaccato ma qua posta c'è forna lei ha accettato di andare al posto della sorella io non sa che c'è una mista ciostra con questo uomo che abusava di lei sia verbalmente che la picchiava ma le cose non più quindi è come se in quella vita lì avesse fatto un contratto per le vite successivi da lì in poi il tartan per me c'è a farlo a tampa cattura e poi la porta ma con la inizia già per lei non poteva più essere diversamente con gli uomini doveva andare proprio male uomini che la trattano male che non l'avano e a tanta cosa solda nini non come c'è mai opzione manco apprezzato in esplosione un trattofali questa è la quinta vita io faccio anche la spianta da corso ok ci sono impianti c'è da nama che c'implante c'è questo impianto mentale molto strano nel senso che è in movimento all'interno e gli esterno in plant mentali a fondo e se c'erano e fatta riesce a capire non c'è poi c'è ancora fruco come se fosse sai quel quelle palle dove stra con i numeri anche dell'orato la carta mi più più cani che c'è tanto marea lotta un una che continua a girare nella testa la carta che bambi al corrente scelta non c'è cuova quello e quello mentale e tra che stanno in plant e poi a tipo due placche sopra i polmoni a destra e alla sinistra ma obiettivo poter io steppe a casta capo etica poi a 2 chip tipo 2 chip sui polsi il santo sapeva cip va per una casca una specie di disco sotto l'ombelico la tasca che si tratta del disco to spot camp e poi ha tipo due sfere sotto la pianta dei piedi ipad stop a miss che col basta abbiamo delle abduction c'è stavano prova zania se tante e la rasa 25 al mese lo fate sta pieno mi sento a un al giorno un al giorno pronto senti noi ti sentiamo adesso ok se io c'è il suo elena eravate che allora sa c'è stavo no tutti i ricordi quella cosa dimmi dimmi come se fosse arrivato un impulso perché sono andata a vedere le abduction ho visto questa quella ne fanno diverse ma ce n'è una che praticamente c'è tipo una navicella che si abbassa e rimane in un punto per un po' ma è come se fosse arrivato un fulmine da lì viate viene ho provato nella città con la città che state cosmi cina una cosa età che poi invece chissà che impulso per me non si può scavita questa è la navicella che lei sogna mentre in cui sogni in cui sogna anche di volare non è stato ha detto teota stati che ho tentato che muoviva frasino la sinistra ralata se tac sì sì perché si abbassa proprio nei nostri cieli e la propria fanno sai come quelle scelte che vedi nei film una roba molto simile che il corpo sale in un canale di luce costano sapato la naga è stata accetta che c'è ancora obbligato la sbarge e per la cosa mi mi ferma cosa si fai a tuoi cosa c'è un caso quando c'è rotta costato chi è che le fai felinoide le manti dei falconi forni che è stata provata neanche che è stata la femminilissima falconi inci faccia di noi danno serino e di farino e g ok l'altro sogno sogna di essere in un diva in una tomba scavata nel terreno accanto a un vecchio vivo e tre incappucciati sono lì ai bordi della tomba lei li prega di non seppellirla viva e il sogno finisce e tanto che senta è proprio valiosa capace la certa ingrobio sbrodo un tipo sani nato da caposone a postarci a una prossima allora l'ho visto già prima mentre diceva ai punti è una vita è una vita secondo nessun'altra linea temporale che è molto simile alla nostra però perché è come come se quei tre uomini incappucciati fossero stavano facendo un rito e tagliati in azione c'è ma in linea in ita so fai alla porta potato per snago e volontà tata capetta cosa cosa sono secondo la vita ma che ci sarete wow lo scopo era proprio di seppellirle persone vive era per abbassare le vibrazioni fare abbassare le vibrazioni e creare la 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 paura della morte salente corretto vado a fare un po to bevo e faccio l'uja strac gli scherzi e pazzi e le lasciavano di sotterrate fino a quasi fino a poco prima che morissero esastati a napoletano sopra il campo di genio imparato spragliarsi molto famigliarci e poi le tiravano fuori e facevano i sacrifici con la paura della morte nel sangue ipotente con po compagno il profiano rituale con l'esterno energetico straccio pure tam fatto trovano è una cosa quel punto lì in quel punto lì si si produce nel sangue una cosa molto simile a quello dell'adrenocromo nei bambini la cosa stavano bologna c'era poi nevasse o per squadra nei cosi 10 sostanze e quello è un metodo molto abbastanza veloce per arrivare a quel punto lì questo non solo richiama tutta l'energia della morte e quindi come se richiamasse direttamente anche molo che intercotta andrete anche te smerci francese che facciamo lo ha e c'è quell'energia lì mi è stampa scena torta di anarchi va bene cause sottierica dei problemi dei batti becchi secolo se ne batti le tg con le persone che si occupano di pande minchia colline problemi si raggiungono relazzi e toson cortina che si è porto a mena sinne mio sopravvino giocati si facciano bastino stanno pandemi blande minchia noi diciamo grande mia plan a plan de mia grande minchia più bello la blande minchia dalla come riveri vabbè questa è una cosa che devo tornare un paio di edita che fa le battute praticamente vibrando così basso con tutte queste interferenze che lei cerca comunque sempre di contrastarle per quello che sono tutte assieme e tutte assieme si accordano per abbassarle le vibrazioni come note che interferenze acque savera casca strassi smirval 3 a leona gli stati in bar jack want interferenze raza non sova visto un posto su me facciamo stanno in mischi i fibrazzi e proprio per questo motivo e per questo stato in cui si trova il le parole di queste persone sono sembrano un attacco ad anna ok per verso se stessa vita stacopo foto la sua attesa e quindi la sua difesa è la rabbia e l'attacco a sua volta mentre a cui è nato ok e danna che ha chiesto di norimberga sì no in realtà non io lo sai no no chiediamo le chiediamo con un gesto sì o no se possiamo fare 10 minuti 5 minuti saponiamo ci aspettati da no sopravvi c'è tanta club di cuore c'è non sono passi 15 minuti ma questi anno remperca da fa capo a 0 ok ok non rimberga 2 c'è una persona che tu non conosci che mi ha segnalato ed ita che promuove questo nuovo processo sposta stati aspassionata che potrebbe centro con un bar che stanno sto con l'identa che poi dottore sia un bar già l'aft allora è stato scelto apposta perché perché è una persona all'inizio era di suo è una persona molto genuina e molto onesta è stato prende a tutte cose a l'uovo una potente con una star c'è bello 80 c'è ne bambardo tra tutta conosco 80 c'è non funzionano più quindi hanno aspettato che lui prendesse credibilità cioè gli occhi a cari ashton pan di aragon e poi l'hanno interferito è stato interferito si è fatto interferire in maniera potente alla potenza stampa siano unico interferenze tratta che porta po farla c'è stato un momento in cui si è consapevolizzato questa cosa e ha cercato in tutti i modi di contrastarla dopo a film o manche da un sapere da sprava stati trovati e questa lascia specificava interferenza quello che vedo è che è strano perché è come se fosse lui un po stordito a tappi testa che gifnambar composta che l'acqua o shawamiana ma in realtà chi comunica è il suo clone all'attacco da parte tank tour e comuni cui scelta si fa tanto il seco clone quindi c'è un clone si riescono c'è un clone però è come se lui apparisse come se apparisse lui lo vedo proprio in maniera se tipo auto ma un po addormentato così ma è il clone che parla da che torsai a vita suonestà che trusca o shawamiana tratta cosa vita sotto la mafia può essere che usano comunque il suo corpo per comunicare ma fanno parlare il clone attraverso di lui c'è che usa fai amico ciao a paystone all'acqua fai alta sclona comunica faccia posta di copra ci facciamo ma è un'ora in berga 2 dipende solo da questo uomo no 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 io ho visto lui non non rovinberga 2 ma generale come noremberg a 2 è un processo no per arrivare a dire quelli che sono i diritti umani dell'essere umano noi creiamo che quindi riguardo tutti noi ne creiamo un gigantesco ad eternum e ce lo piazziamo sopra mettiamo sopra una pietra e poi ne vassa con una protesta noremberg davanti c'è una scelta trasmette forse o gran gigante ad eterno fatto in cata fa quali sono i presupposti adesso di questo processo allora entità sono fuori c'è stata se stavano di trovare adesso sì io l'ho visto l'ho visto proprio come se fosse un parallelepipedo come se fosse di cartone a più strati no quindi tanti parallelepipedi di cartone uno dentro l'altro fa cosa faccio avanti a costa nago e rosa nota che prosto parlo stane e tutti i parallelepipedi dentro sono di colore bianco perché sono onesta e sono proprio la verità rispetto il giudizio veramente alle persone che hanno fatto tutto ciò tutto questo i tectore son vernon città prosto parla stannetta una fombia web ora presento io abbia tutta i prati e invece parallelepipedi più esterni erano tutte le interferenze del deep state che voleva bloccare la verità a tasa nancy ma presa ferraue rappresento io quando abbiamo messo la d'eternum sono aperti tutti i lati dei parallelepipedi del deep state diciamo e credo mi si rispetta ad cartone e dentro sono rimasti le parallelepipedi bianchi che rappresentano il processo onesto e vero di noremberg a 2 e cosa stava più media o tebbiamo aver nancy natural rappresento io ci vuoi spavre detto di cosa protas ben giustiva vedo che è necessario che si rinforzi sempre perché cercheranno di mettere altri parallelepipedi intorno alla ciabatta band e trasmasse neanche profita sopando a proprio faris novo nasa non su ministri nega terna la stappa quest'anno ok che altro cosa vedere di dana c'è una causa esoterica si pari c'è mandava il traficio c'è caccia donna alla sua una causa esoterica alla sua vicinanza la lingua italiana a tra video stagione costano sulla brisca e stella brisca e se i boschi la vedo in una vita in una sola vista già prima la vedo in una sua vita dove lei lavorava come interprete vita e nasi pop anni cosa c'è prato fa avrò le tue macchi ma come se lei sapesse già tutte le quasi tutte le lingue del mondo come se capisse il linguaggio di tutti attacca il buono stava schienze che si tratta la maia che ecco e se in quella vita quando entrava la frase detta da qualsiasi persona esistente al mondo nel suo testa e stampa musica che poi era uscita ne e si traduceva automaticamente nella sua lingua e lei comprendeva cosa con la frase volesse dire stata carta automatici dei cuofie quando fa voce tu macchini aiutata uno lo sommiamo a tanto da anni fatto mi sa cosa trovo ed era in grado di riprodurre a voce qualsiasi lingua il bloc spagnolo costo costa jansac e durante tutti i suoi anni di lavoro come interprete e tracce che tratta fa voi a 4 marca quando è arrivata in italia non ha più fatto a me non ha più potuto farne a meno ed è rimasta in italia che sapeva da fuori ma nemmeno qua nemmeno covecinate proprio stascia stava la voce va bene chiamiamo e mentre chi li chiamiamo apriamo il portale aureo la madre disincarnati la madre il padre i tre fratelli trasversi ma lo so per smarco la prossima dana ma metata dietro i abbracci la cosa che spicca proprio che mi vogliono far vedere subito tutti e 5 tazza mi c'è a traseo ci ho fatto un po trattato mi ogni po casa è che non sono tanto legati a a una cosa o una persona ma sono legati a essere ancora loro una famiglia ogni cosa sono sani da che sconcrate io so per attacca per termine pocate giusta una bianno rogino come se avessero ricostruito la loro famiglia a un livello un po più alto per essere costruva rietons fai ora oggi non è che mi si fa un po già mia in eterico io li vedo proprio come si vede vivessero nei luoghi dove vivevano quando erano incarnati i video è nata in pace metà recente amminista che si realizza vostra cosa già ma a 50 centimetri dal pavimento alia per gli unisceni che spingi 60 metro flat potuoco perché l'attacco come se si sentissero sicuri e nel 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 rivivere questa quotidianità è come se non dovessero farsi domande per il futuro tra cui ciò risse un per niente con un canto c'è il nostro futuro è una parola troppo terrena domande per il passaggio successivo verso la consapevolezza e l'evoluzione è stata che sapete james che sua volta che la propria cogetto teo ho sbagliato rosa voi scato mosti in patrò mano stampi hanno come se avessero solo i ricordi delle esperienze negative passate e non volessero doverne fare altre da capo i miei ritri con quindi più semplice stare in questo gioco questo meccanismo che si sono creati ok c'è un messaggio che ho la madre con cui lei aveva una relazione non vuole o altri o tutti vogliono lasciarle c'è c'è uno dei tre fratelli che appena visto come funziona tutto il meccanismo che a stia d'anestro i che te cobracci del caso parte a funzionare trovato il meccanismo si è immediatamente estragnato da questo gioco che stavano facendo e posta 9 opposto c'è stato un graf tra ieri e anche con un po di disdegno rispetto a questa cosa da capo troppo gargi un po di bo scocciato ok da questa cosa si tira fuori e ringrazia la sorella dice grazie per avermi fatto vedere come stanno veramente le cose da che abbiamo partita che segna canzone a test che mi traccia in cui è stato dopo casa l'auto poi gli atti hanno tratto seconda e tra i fratelli che vedi quello più grande quello in mezzo quello più piccolo stec bracci che vede se sta la star certo ma i mostri piccolo ma i mostri stai tra i gemelli chiedo donna c'è doveva che si bisogna che farò gina gana quindi lei sa chi ok poi è come se agli altri beh no dimmi 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 sì è come se i figli fossero stati incastrati in questo meccanismo e quindi lui se n'è accorto e si è un po arrabbiato per te 10 tra trovate il braccio e qui per risa blocco fagni vanno tutte con meccanismo itani che da non uscita non sapete a terra si attacchi parto trasdenerlo fanno va bene la madre dice qualcosa dal c'è mamma tosh moffi allora una roba un po così perché dice vabbè adesso ormai non possiamo più far finta di niente ai sono tutte le carte svelate ci prenderemo la responsabilità del dopo mamma muovere soltanto ma non è tanto contenta questa parte è stata stata vola ma vuole andare nel suo potere auguro no alla terza c'è stata costruita comporta l'ultima se ci vuole andare perché ormai giochino della famiglia finta e finito lì salutiamo tutti li facciamo andare e chiamiamo tutti i parenti di dana di tutte le generazioni trasporta con i medici accetta montaglia viva dei migliori signori che la ragina da smarli francesi che sono stati poi avic già che ci siamo tutti i parenti di tutte le generazioni di edita miei e tuoi i rovin smoyer smoyer e ragina salano e lucio è il ciabattino con le scarpe rotte no il parrocchiere con le doppie punte anche no dobbiamo pensare cioè che abbiamo lavorare anche su di noi non sono per gli altri ti fa le scarpe poi alle scarpe rotte questa sempre le scarpe degli altri ciabattino è il calzolaio calzolaio certo c'è da sbuto c'è un data polacco sì ok così un numero quanti arrivano della linea di edita della tua e della mia il bisogno sopra fase però d'ho posto con un nostro time il traccio di dana sono tantissimi sono qua c'è ancora dalla pre storia una roba ne sono arrivati 172 mila ragine d'anestro grono sapere tra che storie stasera 60 di fatti salta d'accordo e lei è sempre stata in famiglie numerose perché la sua è di nove persone la sua famiglia c'è più due c'è ragina c'è danna sascia mia volta certa che il bar del cine crocino che c'è porto solo times fa o numerose vedo quello che spicca che in alcune vite è stata orfana tocca a questo tempo ci voto tra soccato via lo sacco che cosa cerco asceroto ma c'è una informazione nella sua vita legata a famiglie numerose 170 mila sono tanti ha accesa carta che in formazione o rogina di sviluppa tonco ci sia lo certo ha vissuto spesso in famiglie numerose e ha vissuto spesso in situazioni di solitudine taguerne strana e raggine veloce nella testa che strana vita c'è la testa rossa ma posti cose molto contrastanti sono stati stanno c'è quasi come se facesse una vita in famiglia numerosissime è una vita in famiglia dove era da solo le sete strana e raggina a 4 che strane anche c'è la sua moto cerato via tutti però c'è stato a portarlo di tutti e quattro non mi qua ciao in centro e che raggina la mia visione è venuta a abbracciarmi tra parcia nella sua cinture qualcuna di dita c'è stata mia papà uno zio pro zio ma chi stava che vuoi ecco si fa faccia mi ha fatto vedere un po lo zio in particolare non so dove non ne maschera non la materna ci sono sì 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 bene il padre vuol dire di qualcosa dirne qualcosa che verava che sei così ti ha detto va bene ci sono un sacco di persona io l'ho già dovrei aver già fatto non so se è avvenuto qualcun altro c'è una cugina di la tua nonna cosa in capra pace e poi tre uomini da partito papà e che trovi commercial da strano trattino le tassone tatia e poi un po più in là 4 5 4 donne un uomo mia cassa ragina totale del ramo dana cia di dana ai ticoccio road danni per i lati per i lati per i lati 173 ok via tutti parli troppo che si piaccia che poi non sto facendo le tue scienze di strani si è votata andrà portato vi salutiamo good luck non so che non ha mai poco tania vedenia pavotania 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 proprio zenia con black buona forte o appena non voglio sapere come scritto era poi c'è la sposa come ci capis di pausa è un altro saluto a capire facciavano uno più semplice poco denia o zenia è bello è un casino però che spoggia si è sposato lo scrivevano però si spoggia siamo finiti male torniamo sul plenario della visione povera dana ok dana cosa vuole fare lavorata franzana totale sono andati noi chiuso il portale portano sempre niente sosta farsi ok le insegniamo a fare un ad eterno subito e le diamo una pillola la vick stata la stavolta madonna ex crau e ad eterno ora se pico che visce vibrazia informatica sia da most lo fa lo crea non sa creare crau e ha visto me tac dicevano ne ha chiesto proprio rispetto a quello che crei tu è potente allo stesso modo allora diciamo che quello che faccio vedere di solito è la base nel senso alla base e poi dopo ci metti l'intenzione posso dire ti concentri e aumenta la vibrazione quanto vuoi cioè come metodo te lo so pogni a posta forza potente vostro mi intenziamo la stessa che si vengono di vibrazia se invece tu mi dici creiamo un ad eterno un platino ma allora lo faccio già creare già potente platino alla scuola di scuola di scuola di scuola di scuola all'eterno un platino un tritato platino fanno portatevo tra la stacchietta che lo fanno un balto potenzo come lo crea che ha creato base che può aumentarlo quanto vuole c'è risposto trovata che sapò ogni potenza fa la potenza da vediamo sono tanti brazzi si è incretto fogna andiamo al cluster tagliama da crostra aperto il portale definitivo a forza ma tanta finita che ne porta vedo i contratti di ogni vita come se fossero una sfoglia tutta piegata una sull'altra noi ogni ogni sfoglia è una vita vita contratti espostati anche qui c'è sta francesca e coi cart rappresentare posta con la società c'è un dolce mille foglie una pasta sfoglia che ne fa cosa ne fa in tasca profi lo butta nel portale definitivo li butta tutti che contract ha sottato a portarlo da finita ha chiuso portale definitivo lo sangue ma porta è permesso l'adeterno nel classe e il caso mi stiamo rovincio ad eterno stesso processo per l'avatar e tanzan protesi coci o avatar a lo analizziamo lo eliminiamo mettiamo una d'eterno da traspersi e messiamo a fermi noi amico io mi stimetano rovincio ad eterno se appare con una con una specie di corona di piume come quelle d'america però su tutta la testa o caso mi sa più roppo fatta che mi ha chiede anni america ha aperto il portale definitivo lo prende lo butta tutto dentro scrivania computer avata il tutto a forza un portale finiterno i vostri attraverso non conto che è o che comporta rotto biorco scopo stato giurato portalo da finita finica chiude il portale definitivo usame che apporta crea una d'eterno cravo inata terno e lo mette lì al posto della data è un mia strada terno tanto c'è più avata ok con questa nuova condizione ci sono ancora le entità eteriche le ben quattro entità mentali l'impianto mentale gli impianti eterici che cosa che interferenze che cosa che state in plant ci sono ancora le abduction così tante c'è stato mi aspetta click ma ecco c'è prova c'era c'erano delle entità mentali collettive relative all'alcol e al tabacco c'è stato con l'acqua fondamentale se siamo sana sarò con la mia che indicato non se si è ancora connessa a queste c'è da non andare a rispondere a nostre ministro tamì no no non ci si con ci si connette sempre attraverso delle entità mentali personali quindi la sedia quelle è andata via anche il collegamento con quelle collettive pavonciani a scuola che termina sta in poi posso stare individuali stata mentali penso la sua niente ma ora individua cosa vista quindi un sistema pontani a scuola termini ok ci sono ancora i cinque uomini del tempo più cronos questa nata cosa piace logica sui cronos no ok nuova frequenza ea casta rassa vibrazia da 150 miliardi stop in 10 miliard of nuova consapevolezza poi ci fa da mostri potente al carassi 193 scoglie finisce rapporto tra anima e spirito erano una vaca mensa d'orso un ad hoc a 55 45 piangere sapiens d'ortar di sto pienso vite precedenti il rito base 989 genza o senti santo c'è finc metà paura se non lo stava cervello 9,2 e non tantissimo che ci sono ancora i ricordi di quei sogni che ha fatto quello della tomba e quello delle navicelle c'è natalistena spagnia i psicologi o te ne ho trovato una nuova statica della tower stand group no 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 perché sono state eliminate vabbè la vita è stata eliminata la vita quella dove facevano i riti io ci ne è ma tanto se c'è che c'è tot profiare tante rete tanto successo stavo valmi la fama e sono stati eliminate le attaccio ora si elimina fanno se stavano provate alla vento che sta prima ma ok messaggio finale della ps della p e di dana e una coni tra domoste autodusa danno danno tu la skype è fondamentale che nei prossimi mesi ti prendi esclusivamente cura di te il tuo fisico totes ma i vostri fondamentale toto abbastanza terni a sbagliare che ho già trovato fisico se continui vibrazioni basse ti hanno debilitata parecchio nischi e vibrazie bardo c'è un spavio è proprio necessità di prenderti cura è una città nischi vibrazie bardo c'è la sua bio e tra stiamo sia la cosa la città la città la spazia di potenza ha necessità di essere leggera ma sta con potrebbe tra slecca e quindi vai fuori e gioca con le altre persone quindi fai cose leggere vengono i baci e dovrò venire tende mio spavano che cosa portano in colla che c'era questa è una cosa principale è stata un asato promuovì come la vedi dana gli actor asafetta ma la vedo che è come se si sentisse come se avesse una pelle che è un involucro nuovano tutto intero vite tra sac un po' vuoca c'è la snows a pagina fa oscura con un vestito nuovo che te lo devi sentire bene addosso perché 99 so che in catturano lo più sac da bisogna sapere tutti tra passo e cola ok mettiamo un po di ad eterno finali uno nuovo di nuovo su norimberga ma è che il canove ad eterno mister no canto fai si cogeva noren barca 151 nel corpo fisico mentale emozionale subliminale eterico e pieni scala nel caso ci aumentano l'emozionale c'è la torsione c'è la fiesta c'è la fiesta c'è si è come se unisse tutti i corpi assieme no da che per far mani salvavano c'è scritto posto cominciava fermo vi vorranno tutti la stessa liberazione lascia che ciao a vibro è un posto che fosse nel qui ed ora è completamente connessa con la sua ps e poi teresa e strassi non c'è mai danni si fai un dosso tutti i corpi sono connessi tra loro cioè che c'è la stossa pomiglia pontone e tutti agiscono nella stessa direzione e che abbandonati avanti stanza ma anche ronco ok come la vedi tu adesso io che ho viti vedo luminosa e leggera alleggerita leggera libera io parte tra caro scelto nata la specie sta con lecca e svolna leggera da poter ballare quindi saltella ok abbiamo finito